Buongiorno, mi chiamo Luigi e il mio interesse per le tecnologie cosiddette esponenziali risale quando avevo 23 anni, era il 2003 e vedevo che il futuro sarebbe stato, uno dei futuri possibili, sarebbe stata una piattaforma di sharing dei video, ma non riuscivo a convincere di quel futuro. YouTube sarebbe stato fondato due anni dopo. E poi sono rimasto assolutamente affascinato da un altro tema, da come i sistemi complessi si auto-organizzano. Allora ho deciso di prendere un anno sabbatico dal settore della cooperazione internazionale, dove lavoravo, per studiarli, poi un master per analizzare, e poi ho cofondato una startup per mapparli, per accelerare la ricerca multidisciplinare, un Google Maps, degli spazi di sapere. Quello che il mio contributo che voglio condividere con la Singularity è questo, è innovare sulla tecnologia che permette di creare tutte le altre tecnologie, ed è l'economia, perché l'economia è la tecnologia di come la civiltà umana si auto-organizza. E quello che vorrei proporre è questo, è una transizione di fase, da economia che fanno tante cose, a economia che fanno cose che veramente sono importanti. Come fare? Questo significa rendere il costo di innovare una commodity, accessibile alle masse. E io mi immagino di prendere come moduli, che possono essere riprodotti, delle comunità autosostenibili sufficientemente grandi per abilitare dell'economia di scala interna. e la prima priorità è utilizzare le tecnologie già esistenti per permettere una food security interna, cioè che tutte le persone mangiano. Nel momento in cui le persone mangiano, si alza il potere contratturale di queste persone per committarsi, dedicarsi a cose che possono contare molto di più che semplici attività, che verranno rimpiazzate, ci saranno 2 miliardi di lavori persi entro il 2030. Allora a quel punto si potranno utilizzare un kitab dell'open hardware che mette a disposizione dei moduli di innovazione che possono essere adattati localmente ai bisogni della domanda locale e un blockchain, cioè dei libri contabili che tengono traccia dell'effettivo valore aggiunto che un prodotto, un'innovazione ha rispetto tutto il resto. Infatti, se voi ci pensate, che cos'è l'innovazione? Eh, quando dipende, cosa c'è? Se ci sono tante alternative simili, in fondo è rumore, è come dire, va bene, io innevo su un telefono giallo anziché rosso, ma la vera innovazione è quella che ti promette di fare il salto. Allora, qual è l'impatto sull'economia? Beh, l'economia adesso, per come sono fatte, hanno tre grandi esternalità, sui salari, sulla centralizzazione del capitale, che permette ricerca e sviluppo, e sul controllo del network economico, e questa è la più grande di tutte. Intervenire su meccanismi che abilitano l'accesso al capitale, sia in-kind come modulo di innovazione, sia in-kind come modulo, sia in-kind come modulo, sia in-kind come modulo.